Credo che la nota buona sia il fatto di una ritrovata serenità, lo avevamo detto anche la settimana scorsa quando vi avevo raccontato che ci eravamo sentiti e l'avevo sentito molto più sereno prima dell'inizio del torneo sorridente, allegro, voglioso di giocare, contento di giocare e credo che anche lì poi sia stato bravo e questo abbia inciso anche in una nota assolutamente positiva che è quella di essere stato in grado di giocarsi in maniera ottima i punti importanti qualità che lui aveva sempre avuto ma che poi ovviamente per tanti motivi aveva leggermente smarrito negli ultimi match che aveva fatto nell'ultima parte di stagione, quindi ecco questo tempo di attesa per fortuna gli ha ridato una maggiore convinzione forse di forza e di qualità che lui aveva sempre avuto di saper giocare bene nei momenti topici e anche qua ritorniamo alle caratteristiche di un grande campione che sa scegliere i momenti, sa capirli, sa leggerli